E bentornati a Primo Cittadino, siamo di nuovo in diretta per una puntata dedicata ai sindaci del territorio. Do subito il benvenuto a Davide Dell'Unti, sindaco di San Lorenzo in campo. Buonasera, buonasera Simona, a tutti gli ascoltatori di Fano TV. Fra poco vedrete i numeri di telefono in sovrimpressione 0721 86 14 33 per parlare direttamente con il sindaco, però potete inviarci messaggi anche con whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco, le marche sono rimaste in zona gialla, almeno anche per questa settimana. Abbiamo visto che oggi il governatore Acquaroli non ha firmato nessuna ordinanza per queste micro zone rosse, o meglio zone arancione rafforzato, però fino domani vi ricordiamo che Montelabatte, Vallefoglia e Cerretodesi, quest'ultima nella provincia di Ancona, ci rimarranno. A San Lorenzo in campo qual è la situazione? È sotto controllo? Attualmente a San Lorenzo in campo la situazione è assolutamente sotto controllo. Abbiamo 10 casi positivi e un totale di circa 20 quarantene, compresi 10 positivi. Chiaramente abbiamo avuto dei momenti anche complessi e difficili, soprattutto a cavallo della fine dell'anno, quindi fra la seconda metà di dicembre del 2020 e tutto gennaio del 2021. Ha ricordato bene Simona il discorso dell'arancione rafforzato, che la Regione Marche può disporre con una propria ordinanza, perché è giusto che tutti sappiano che vanno fatti degli sforzi in tal senso, perché poi la Regione potrebbe dare delle microzone rosse, arancio rafforzato, nel caso di un superamento del limite dei 250 casi su 100 mila abitanti, che per comuni piccoli, come anche il nostro, è anche molto semplice. Questo richierebbe un danno enorme alle tante attività economiche che hanno ricominciato le proprie attività appunto da pochi giorni e quindi hanno necessità assoluta di poter proseguire a tenere aperto e quindi lavorare come è giusto che sia, come è appunto il loro mestiere. In quest'ultimo fine settimana sono state elevate delle multe, ci sono stati gli assembramenti o i suoi concittadini sono stati bravi a rispettare le regole? No, i nostri concittadini sono piuttosto diligenti alle regole, non sono state elevate delle multe in questo fine settimana. chiaramente l'attenzione è massima da parte di tutti e deve esserlo da parte veramente di tutti perché poi, ripeto, bastano pochi casi nei comuni come il nostro, che sono 3.300 abitanti, eventualmente per far scattare delle restrizioni maggiori, questo sarebbe veramente un dramma. C'è stata un'emergenza nelle scorse settimane che riguardava i medici di famiglia, però è rientrata, quindi una buona notizia. Rientrata è una parola grossa, nel senso che... Per il momento. Diciamo che abbiamo una sostituzione a lungo periodo, per almeno sei mesi, ma rinnovabili, di un medico che ha concluso la propria attività, appunto, pochissimi giorni fa, al 30 di aprile, la dottoressa della Santa Roberta, che quindi avrà sei mesi di sostituzione. Ma comunque siamo ancora carenti di un medico, per tornare ai tre che a San Lorenzo in campo ci sono sempre stati, e oltretutto a ottobre anche l'altro medico andrà in pensione, quindi la situazione è in perenne di venire e noi siamo assolutamente attenti a questo. Abbiamo fatto degli incontri e degli appelli con la Regione Marche, con l'Asur, proprio per mettere al centro dell'agenda della nostra azienda sanitaria regionale, della Giunta regionale, questo problema che non riguarda ovviamente solo San Lorenzo in campo, ma a San Lorenzo in campo c'era una drammaticità in più, perché veramente si rischiava di arrivare a una mancanza, insufficienza grave di quella che è l'assistenza medica di base. Io mi sento anche in questa sede di ringraziare veramente i medici che ci sono nel nostro comune, per il lavoro che stanno facendo, e si sono sobbarcati veramente degli impegni importanti su questo, anche in fasi molto molto complesse, quindi l'appello ovviamente è a che le istituzioni aiutino i comuni come il nostro a trovare una soluzione definitiva e duratura, perché l'assistenza medica di base in una situazione come quella che stiamo attraversando, in una situazione pandemica dove c'è la vaccinazione di soggetti che viene effettuata dai medici di base, è fondamentale avere un appunto di riferimento stabile, sappiamo benissimo che è importante. Sindaco, prima di iniziare a leggere i messaggi, perché già ce ne stanno arrivando tanti, vorrei parlare con lei di una notizia di pochi giorni fa, ovvero il no definitivo per il progetto di allevamenti avicoli fileni, quindi avevate già annunciato, già parlato con la stampa anche nel mese di dicembre e in quelli successivi che comunque, esatto, non avreste concesso questa variante. Noi ce l'aspettavamo questo risultato che la Regione Marche poi ha decretato nero su bianco, con il decreto del dirigente numero 130 del 27 aprile di quest'anno, del 2021, quindi di pochi giorni fa, è stata una vicenda lunga, complessa. Noi diciamo che avevamo messo la parola fine già ai primi giorni del dicembre del 2019, addirittura giorni nei quali avevamo già detto chiaramente che non avremmo rilasciato la variante urbanistica. Questo è stato, questo è stato fatto poi negli atti ufficiali il primo di febbraio dell'anno 2020, poi c'è stata la pandemia, la richiesta di rinnovo di 180 giorni dei termini da parte del gruppo Fileni, e poi tutte quelle salvaguardie di legge che in questi atti vengono normate dalla legge la 241 del 90 che prevede diciamo un rimpallo per parlare in maniera molto semplice di quelli che sono gli atti che i vari enti, i proponenti, i comuni si scambiano fra di loro fino ad arrivare alla decisione finale. Io su questo chiaramente ringrazio intanto tutti i colleghi dell'amministrazione comunale, gli uffici comunali, i cittadini, i tanti cittadini che si sono occupati di questa vicenda, poi hanno da subito direi formato un comitato perché al di là delle iniziali divergenze e anche scontri che ci sono stati, sempre in maniera molto civile chiaramente, poi si è capito molto bene qual era l'intenzione dell'amministrazione comunale e del sottoscritto, quindi abbiamo valutato molto esattamente quello che è stata tutta la vicenda, tutto il progetto e quindi alla fine si è arrivato a questo risultato che dice no all'impianto avicolo del gruppo Fileni essenzialmente per la mancanza della variante urbanistica che il Consiglio ha bocciato il primo di febbraio del 2020. Andiamo avanti con i messaggi. Quando verrà realizzato il parcheggio nell'ex campetto parrocchiale? Sì, questa è una domanda interessante perché riguardo al parcheggio del campetto parrocchiale abbiamo avuto un incontro con l'amministrazione pochissimi giorni fa con il parroco, con il nostro parroco perché all'interno di una partita ampia che riguarda alcune cessioni fra comune e parrocchia. Abbiamo preferito quindi fare un lavoro di questo genere, ovvero sistemare tutte le questioni che ci sono aperte e quindi andare a fare gli scambi proprio di proprietà, quindi della piena proprietà dei beni e poi iniziare i lavori. Sia noi che la parrocchia abbiamo fretta di concludere questa storia, quindi io credo che per l'estate potremmo metterci mano anche su quel lavoro. Quando verrà realizzata invece le chiedono la ciclovia su via Bagnara che collega sottopasso già realizzato sotto un nuovo tratto di variante? Allora, il sottopasso è già realizzato perché chiaramente non si va a rompere una strada nuova per fare un sottopasso, quindi lo scatolare prefabbricato sotto la variante nuova è stato già posato ed è stato solamente tamponato davanti per questione di sicurezza ovviamente. La provincia sta definendo le ultime operazioni di esproprio della fascia pertinenziale che riguarda poi la realizzazione vera e propria della ciclovia e finita quella insomma già la progettazione, l'ufficio tecnico internamente la stiamo portando avanti ha avuto insomma anche lì il trasferimento di proprietà e quindi via libera da parte della provincia ad iniziare i lavori potremmo fare anche quello. E abbiamo anche una foto della variante sindaco, così la commentiamo insieme perché è un'opera importante. Sì, queste sono immagini che vediamo del giorno dell'inaugurazione che è il 22 di dicembre dell'anno scorso, del 2020 diciamo che i vantaggi si vedono chiaramente, meno traffico nel centro storico, meno inquinamento, meno rumore, meno vibrazioni questa variante andava conclusa, è un percorso lungo e l'ho ricordato anche il giorno dell'inaugurazione come è giusto è un percorso che tanti prima di me ci hanno messo mano anche col primo tratto ovviamente l'inaugurato nel 2014 ma dal 2014 in poi è accaduto un fatto nuovo, è un fatto nuovo perché le competenze poi con la legge di riordino delle province sono passate alle regioni, il trasferimento della 424 dalla regione all'ANAS questo ha complicato la questione quindi è stato necessario rifare tutto da capo a quel punto avevamo solo uno studio di fattibilità preliminare abbiamo dovuto ricominciare da capo, io allora ero anche consigliere provinciale la questione l'ho seguita assolutamente da vicino, però alla fine lavorandoci insieme comune, provincia, regione Marche, gioco di squadra, le cose si portano a casa oggi il nostro centro può vivere di tutt'altra progettualità perché andare a fare un progetto sul vecchio tracciato di mobilità dolce, mobilità green ma anche di quello che è il viale attuale che stiamo rimettendo a posto, nuovo a tutta un'altra valenza perché chiaramente diventa una strada interna e non più di grande passaggio viario E oltre 2 milioni di euro? 2 milioni e due Che sviluppi ci sono nel progetto dell'area ex scuola media? Allora, nell'area ex scuola media purtroppo abbiamo avuto alcuni problemi alcuni problemi che riguardano essenzialmente il rinvenimento durante la demolizione di una cisterna che non era preventivato come rinvenimento all'interno dell'area una cisterna di gasolio di quando c'erano le scuole medie questo ci ha comportato un ritardo di lavori, ci ha comportato un notevole sborso anche economico Siamo in una fase nella quale stiamo definendo, siamo arrivati alla fine nella definizione di un cambio, non un cambio del progetto che è sempre quello identico a quello che ho fatto vedere ai cittadini già più di un anno e mezzo fa ma riguarda alcuni dettagli strutturali della struttura che ci consentono di velocizzare molte lavorazioni e di avere quindi ripartire il più presto possibile veramente ce l'auguriamo tutti e ci stiamo lavorando notte e giorno per farlo ripartire prima possibile quel lavoro che è fondamentale Per la scuola primaria? La scuola primaria 1.650.000 di finanziamento a fondo perduto ricevuto dal ministero del MIUR per un intervento globale e complessivo di adeguamento sismico e ristrutturazione completa di quell'edificio è in atto la procedura di gara, non sappiamo ancora di preciso bene quando si concluderanno tutte le operazioni di gara che sono chiaramente molto complesse essendo un lavoro superiore al milione di euro Stiamo definendo quindi tutti i dettagli operativi e poi come ho detto anche nel momento dell'annuncio di questo finanziamento importantissimo che va a chiudere il quadro dell'adeguamento sismico di tutte le strutture scolastiche in San Lorenzo in campo fra l'altro quindi importante anche per quello interloquiremo come ho detto sia con la parte dirigenziale della scuola con gli insegnanti, con i genitori per tutti i dettagli tecnici compresi i tempi di intervento, le localizzazioni e tutto Dunque ho letto che è stato finanzato un intervento per le fermate del trasporto pubblico locale si potrebbero sapere dei dettagli? Sì, abbiamo inviato nel luglio del 2019 delle schede tecniche alla regione Marche per un bando che era stato emesso nell'ambito del servizio trasporto pubblico della regione appunto per il finanziamento di tre fermate del trasporto pubblico locale le fermate erano già diciamo stabilite dal bando regionale chiaramente ci è arrivata invece la comunicazione perché siamo rientrati non nella primissima tranche ma nella tranche finale in cui poi sono stati finanziati tutti i comuni che ne avevano fatto richiesta non siamo tantissimi comuni che ne avevano fatto richiesta noi fortunatamente l'avamo fatta perché ci stiamo molto attenti sui bandi questo devo dirlo e devo ringraziare l'ufficio tecnico e tutta la struttura del comune su questo e i colleghi amministratori nel momento in cui ci è arrivata la conferma di questi 35.500 euro da parte della regione Marche abbiamo rivisto le fermate perché erano sia molto periferiche non quelle che erano state previste dalla regione parlo, molto periferiche e molto anche poco fruite oltretutto di difficile realizzazione per un discorso di esproprio per un discorso di norme tecniche dell'ANAS che imponeva quindi abbiamo rivisitato in accordo con la regione che ci ha già dato l'assenso la settimana scorsa per realizzare queste fermate sul tratto di 4.24 dal centro a via Mattei quindi l'hotel giardino, quindi ne metteremo due su via Mattei quindi dove c'è l'hotel giardino e una nel tratto compreso fra l'innesto della nuova rototauria la topergola e il centro abitato le chiedono anche quando riparte il maxicantiere adiacente al municipio perché è uno scempio, scrivono è quello che ho detto prima è quello dell'ex scuole medie invece lavori per edificio che dovrebbe sostituire l'ex media siamo sempre qui se il suo discorso si è pensato di poter includere nell'ambito della raccolta rifiuti anche l'appalto dello spazzamento stradale lo spazzamento stradale? allora noi andiamo a finire l'appalto con l'attuale gestore perché siamo fra i tre comuni che hanno nella provincia di Pesorbino non sono né con Asset né con Marchi Multiservizi siamo all'interno quindi di un appalto singolo come comune di Salvenenzi in campo lo finiamo a fine novembre di quest'anno stiamo già lavorando al prossimo bando e infatti ci si rende conto che è molto conveniente senza neanche oltretutto aumentare il costo della Tari andare a inserire lo spazzamento stradale o comunque gran parte dello spazzamento stradale all'interno di quell'appalto perché comunque c'è un discorso di attrezzature di personale che ci sgravia altri lavori per i nostri operai esterni aggiornamenti sulla fibra ottica? fibra ottica è un altro tema molto interessante perché? perché anche qui siamo nel momento in cui stiamo facendo un sacco di interlocuzioni con la regione perché? perché non capiamo quali siano i criteri di priorità che sono stati dati ai vari comuni nel senso che noi abbiamo fatto fra virgoletti compiti a casa già da diverso tempo in quanto abbiamo inviato tutti i dati e quindi perché alcuni comuni partono ad altri no ecco siamo arrivati un po' al dunque nel senso che c'era un problema di autorizzazioni che non dipendono dal comune perché la dorsale principale poi passa sulla 424 che è proprietà ANAS infatti tant'è che il problema non c'era solo nel nostro comune ma anche qualche altro comune vicino al nostro fra l'altro pochi giorni fa circa 10-15 giorni fa ci sono arrivate comunicazioni da Infratel Open Fiber che è poi il soggetto attutore di questo progetto per partire anche a San Lorenzo in campo chiaramente la Regione Marche su questo sta spingendo molto stanno cercando di recuperare un gap di tempistiche che si erano perse in precedenza chiaramente i comuni sono tanti e quindi bisogna agire con fretta perché tutti i cittadini hanno necessità di questo servizio ma soprattutto le imprese le imprese che hanno attività chi fa dei telecontrolli chi ha delle quindi importanti anche realtà aziendali che abbiamo nel nostro comune che usano molto e hanno bisogno di una rete performante quindi su questo si sta lavorando tutti i giorni per far sì che arrivi prima possibile anche a San Lorenzo in campo e quindi credo a breve potremmo partire anche da noi direi se lei è d'accordo di parlare un attimo del verde pubblico così che poi lasciamo spazio anche ai cittadini che chiedono informazioni proprio sulla manutenzione abbiamo anche in questo caso una foto che ci avete fornito quindi continua anche questo piano Sì, questi sono i giardini pubblici su via Regina Margherita abbiamo fatto anche quest'anno poco tempo fa un intervento non solo di potatura ma di prove tecniche su questi alberi sono alberi che hanno molti molti anni chiaramente molti decenni qualcuno anche secolare hanno necessità di prove tecniche di un certo tipo di trazioni, di tomografie che sarebbero si fanno quasi un attacco a livello dell'attacco appunto della pianta verso terra sono piante molto fragili quindi hanno necessità di queste analisi tecniche abbiamo fatto un intervento di potatura scientificamente corretto perché molto spesso si vedono delle capitozzature le cosiddette capitozzature sul lungomare ma anche in tanti comuni è un metodo che chi lavora tutti i giorni su questo ambito ci hanno spiegato chiaramente che è un metodo sbagliato e la pianta nel lungo andare soffre non solo nei giardini pubblici ma inizieremo anche su Via Trieste che è un'altra via proprio adecente a quel punto che vediamo qui nei giardini pubblici per avere un'analisi precisa di quelli che sono dei pini marittimi che devono essere analizzati specificatamente per sia condizioni di sicurezza ma anche condizioni di decoro della via quindi vogliamo avere un approccio scientifico su quello che è le potature degli alberi soprattutto di quelle storiche di quelle più importanti perché c'è la sicurezza di mezzo e anche se costano molti soldi fare queste analisi vanno fatte Avete iniziato pochi anni fa due anni fa anche un progetto di riforestazione Sì abbiamo iniziato un progetto di riforestazione con alcune nuove senza arbore sempre lì nei giardini pubblici ne pianteremo quest'anno in autunno dell'altre e quindi andiamo avanti anche con questo progetto perché chiaramente se uno fa degli abbattimenti che le norme ti impongono e gli studi tecnici ti impongono deve anche riforestare Dicevo di questo messaggio del telespettatore quando verrà tagliata l'erba nel tratto di strada del capoluogo a Montalfoglio e poi quando pensa di iniziare la pavimentazione nel paese di Montalfoglio? Esatto Allora, l'erba verrà tagliata nei prossimi giorni proprio sono in contatto con l'assessore Bonifazi che segue tutto questo settore quotidianamente ne abbiamo parlato anche stamattina di dare mandato all'ufficio tecnico che già sa che deve partire con questi lavori quindi non solo la via Montalfoglio che è quella che conduce dal paese a Montalfoglio ma anche tutte le altre strade exurbane e quindi verrà fatto chiaramente su tutte le strade exurbane come si fa sempre le pavimentazioni allora il fondo del GAL questo è un altro lavoro di circa 10.000 euro del muro d'accesso a Montalfoglio che vediamo in queste immagini ma la parte grossa del lavoro riguarda quella pavimentazione che vedete dall'inizio del paese dove ci sono i lavatori pubblici sino oltre la porta del portale d'ingresso sino a dove c'è una scala che poi porta a Piazza San Martino una gladinata e quelli sono stati finanziati dal GAL finalmente anche questi lavori finanziati dal GAL perché tutti i comuni sanno quali sono state un po' le lungaggini del GAL per l'erogazione dei fondi e questa mattina c'è stato invece finalmente data anche la buona notizia dal Ministero dei beni culturali per i 180.000 euro delle mura lato proseguendo da quello che vedete lì su quel lato verso San Lorenzo e la torretta medievale era un progetto che abbiamo portato avanti addirittura dal 2016 a ogni cambio di governo veniva cambiata la commissione giudicatrice comunque sia in tutta Italia erano stati finanziati con già un comunicato e un decreto adottato dal Ministero a fine del 2017 circa 250 interventi in tutta Italia si sono stati poi da fare molti compiti e molte questioni burocratiche successivamente a quel decreto nella prima tranche di 22 comuni su quei 250 risulta anche San Lorenzo fra l'altro l'unico comune delle Marche che rientra in questa tranche ci è stato comunicato questa mattina l'avevo saputo in anteprima qualche giorno fa di questo decreto ha aspettato l'ufficialità su queste cose è fondamentale l'ufficialità anche per non illudere magari persone e quindi cittadini che in quella frazione abitano o la frequentano quindi finalmente riusciremo a fare questi importanti lavori 100 più 180 sono 280 mila che sono gli step che cosa succederà allora adesso i lavori del GAL possono già essere può essere già iniziata la procedura di appalto per invece i lavori dei 180 mila dovremmo firmare una convenzione con il Ministero che ci invierà tutti i dati secondo le loro tempistiche che oramai dovrebbero essere veramente brevi e poi iniziare anche quelli chiaramente faremo un coordinamento anche per evitare di creare disagi e di creare problematiche che è la frazione soprattutto in vista di questa stagione estiva che sta iniziando ci sono delle attività c'è un'attività importante e quindi non possiamo neanche andare a creare dei disagi particolari quindi cercheremo di fare un accordo e fare una scelta oculata vorrei fare una domanda al sindaco si era parlato di cambiare tutta l'illuminazione del paese con luci a LED da che punto siamo? quando partiranno i lavori? allora project financing che riguarda tutta la pubblica illuminazione e non solo perché c'è anche l'efficientamento degli edifici comunali già diversi interventi? si, già diversi interventi con dei fondi appositi abbiamo fatto in questi anni con anche delle piccole estensioni di punti luce che chiaramente non sono mai sufficienti perché ognuno giustamente aspirerebbe ad avere qualsiasi via illuminata ma questo ovviamente non è possibile però stiamo già facendo alcuni diversi lavori e questo progetto globale di circa 800 mila euro è arrivato oramai a conclusione perché nei prossimi dieci giorni ho parlato anche stamattina con l'ufficio tecnico su questo e mi ha assicurato l'architetto Storoni che in dieci giorni è pronto ad inviare tutta la documentazione alla stazione unica appaltante che è la provincia di Piaso Urbino per poi fare la gara qui invece vediamo un altro intervento anche qui che riguarda una parte di efficientamento energetico per il secondo tratto del Viale Regina Margherita anche qui dove andiamo a fare il rinnovo sia delle pavimentazioni che dei sottoservizi che dell'arredo urbano si va ovviamente a rinnovare anche tutta la pubblica illuminazione per renderla a led soprattutto nel centro storico stiamo anche attenti ad avere un led che abbia un valore cromatico non troppo bianco certe volte nei centri storici si vede quel bianco sparato sintomo di un grado Kelvin eccessivo mantenete la giusta atmosfera sì, nei centri storici va tenuta una certa coerenza dunque le chiedono ora che avete cacciato Fileni chi smantellerà l'Eternit dell'ex Agroter e un'altra che parla dell'allevamento qual è l'idea che si è fatto in qualità di sindaco della questione Fileni in generale? perché è stata comunque una battaglia sentita assolutamente la prima è semplicissima perché l'Eternit non è che lo smaltisce il comune laddove il comune ce l'ha nei propri edifici lo smaltisce il comune ma se dove c'è il privato lo deve smaltire il privato ma non è obbligato a smaltire l'attenzione perché poi quando è venuta fuori questa questione parliamo del dicembre 2019 abbiamo chiamato io ho fatto una comunicazione ad Asur ho fatto una comunicazione all'ufficio tecnico in cui chiedevo un sopalluogo preciso e puntuale su quell'area per verificare lo stato di questo cemento amianto è stato fatto abbiamo imposto alla proprietà di fare un piano di manutenzione e gestione del rischio amianto ed è quello che è stato fatto chiaramente è obbligo poi del proprietario seguirlo ed è obbligo nostro controllare che questo venga fatto quindi questa è la situazione dell'amianto chiaramente in questo senso uno non può neanche dire che accetta qualsiasi tipo di intervento su quell'area perché devo eliminare il problema amianto l'amianto che c'è lì l'acqua terra chiusa dai primi anni 2000 il problema è venuto fuori adesso perché? perché la ditta proprietaria e la proponente quindi il gruppo Fileni aveva messo fra i benefici dell'intervento anche il discorso dello smaltimento amianto ma come si è detto a chiare lettere non è che uno deve mettere lì un impianto, un qualcosa che ha altre criticità e che l'analisi costi-benefici non depone, non ha deposto a suo favore per discorso dell'amianto il discorso dell'amianto ha le sue regole ha le sue strade quindi va avanti in quel senso lì sulla seconda domanda la domanda che ci vorrebbe un'ora intera una trasmissione intera per rispondere intanto è stata soddisfazione il fatto che alla fine si è arrivati a quello che era stata la decisione che il Consiglio Comunale in toto aveva preso che è una decisione sentita dalla cittadinanza perché chiaramente la cittadinanza si è espressa credo in maniera chiara su questo e quindi l'idea l'idea è che comunque su questi temi non bisogna arrivare con i preconcetti nel senso che abbiamo avuto nella procedura chiaramente tanti enti coinvolti anche altri due comuni che sono Mondavio e Castelloneo di Suase non bisogna arrivare con i preconcetti con discorsi già di facciata di altre questioni perché comunque va affrontato il problema per quello che è va visto quali sono i vantaggi va visto quali sono gli svantaggi e si fa un bilancio finale nel momento in cui noi avevamo sempre detto guardate attenzione abbiamo in mano la questione della variante urbanistica che è fondamentale ho letto stamattina e mi ha fatto molto piacere che il collega sindaco di Terra Roveresca Antonio Sebastianelli mi ha citato nel problema del biodigestore che una ditta privata vorrebbe realizzare nell'ex discarica di barchi ha detto come è successo San Lorenzo in campo dove il sindaco Dell'Onti ha e con la sua amministrazione ha bloccato un intervento perché c'era una variante urbanistica che poi non è stata portata avanti è stata anzi bocciata mi aspetto che nel mio comune succeda la stessa cosa e questo era il punto fondamentale che si è sempre detto e che poi mi hanno portato avanti chiaramente ma è stato anche interessante vedere i diversi aspetti di questo progetto e approfondire tutti questi aspetti non solo per me ma anche per il mio ufficio tecnico che si è fatto sicuramente e questo sia il geometra Piersanti prima che andato in pensione oramai circa un anno fa che l'architetto Storoni ora si sono fatti sicuramente un'esperienza importante su questo perché piccolo comune come il nostro non capitano spesso questo genere di interventi rilevanti che hanno una procedura burocratica estremamente complessa poi chiaramente i tempi della burocrazia sono una cosa gli amministratori li conoscono qualche volta la cittadinanza non conosce i tempi della burocrazia i tempi delle procedure amministrative su una cosa così complessa che ha riguardato tantissimi enti diversi quindi su quel distacco e scollamento qualche volta che c'è nell'aspettativa delle tempistiche soprattutto si può maturare qualche frizione e qualche critica qualche problematica però alla fine e sono i conti e sono i risultati quelli che contano quindi i risultati sono questi qui e sinceramente mi ha fatto anche piacere firmare certi documenti ma non per una per chissà quale questione perché quando sai che una certa responsabilità ricade su di te ricade sul sindaco ricade su colui che mette la firma e la firma l'ha messa sottoscritto su dei documenti fondamentali su questo atto è una soddisfazione perché sai che la tua firma una volta tanto perché si dice chissà quali sono i poteri del sindaco in realtà non sono così infiniti e così enormi come uno possa pensare però in certi atti sì e poi si vede Sindaco abbiamo alcuni commenti su questo argomento ma dobbiamo ancora parlare di strade del cimitero ciclovia poi le chiedono anche se ci saranno degli eventi la prossima estate ma ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità a tra poco bene siamo tornati in diretta con il sindaco dell'Onti cominciamo con la ciclovia del Cesano le chiedono a che punto siamo allora la ciclovia del Cesano sono 800 mila euro che la regione Marchi ha stanziato con un proprio finanziamento su tutto l'asse quindi del Cesano da Marotta fino ad arrivare al Monte Catria il comune capofila che ha in gestione questa somma è il comune di Mondolfo con il quale ci si relaziona molto spesso e di questo ringrazio anche il sindaco Barbieri per l'attenzione che sta ponendo su questa tematica siamo nella fase di aver quasi redatto tutto lo studio di fattibilità anche perché poi abbiamo dei tempi stringenti anche per sia i tempi di rende contazione del finanziamento complessivo ma anche per quanto riguarda poi veramente i lavori che devono partire entro breve quindi tutta la parte di progettazione che non è sicuramente semplice 800 mila euro è una prima cifra è una prima cifra sulla quale sono certo che la regione Marchi l'assessore all'infrastruttura Valdelli è molto sensibile a questo tema sicuramente ci metterà delle altre risorse per arrivare alla conclusione di questa ciclovia perché chiaramente con 800 mila euro non si riesce a farla ovviamente tutta però il progetto sta venendo avanti anzi dovremmo aver rendi contato gran parte delle spese alla fine di quest'anno la vedo dura la vedo complicata perché poi è un progetto che riguarda molti comuni a partire da Mondolfo fino ad arrivare a Serra a Sant'Abbondi o Frontone quindi non è semplice però stiamo lavorando tutti quanti in grande sinergia su questo lavori sindaco anche al cimitero del capoluogo sì sono 250 mila euro di intervento sulla quale siamo in definizione del progetto esecutivo per fare un altro blocco di loculi nel centro o nel cimitero del capoluogo fra l'altro stiamo anche facendo un progetto generale questo è importante di tutta la parte nuova del cimitero quindi rivedere quello che è il piano regolatore cimiteriale generale di quella porzione per ottimizzare degli spazi per creare anche degli spazi per le sepulture private che erano mancanti e su cui c'è richiesta ma non c'era fino a poco tempo fa anche una disponibilità una cosa molto interessante che chiaramente dovrà passare in consiglio comunale però sulla quale teniamo particolarmente insieme ovviamente ai lavori che chiaramente ogni tanto i loculi vanno costruiti come ben si sa però anche il riassetto generale di quella parte del cimitero del capologo è molto molto importante perché poi è una prospettiva quella di 20 30 40 anni quindi una cosa rilevante quando un vero decoro ha la frazione di San Vito sul Cesano ma San Vito sul Cesano ha 100.000 euro di intervento per le mura le mura fra l'altro abbiamo investito diverse risorse a San Vito sul Cesano siamo arrivati dove c'era una situazione di bombardamento della pavimentazione di San Vito sul Cesano con chiaramente anche una problematica sullo stato del manto all'interno della frazione è stato rifatto quasi tutto grazie anche all'intervessamento della multiservizi le mura abbiamo stanziato 100.000 euro per le mura storiche del borgo una parte che aveva avuto un crollo qualche tempo fa oltretutto lì a San Vito vediamo anche qui che abbiamo avuto 900.000 euro di finanziamento a fondo per tutto dal ministero degli interni per il dissesto idrogeologico una frana che è posta al di là del cimitero di San Vito sul Cesano e un'altra parte franosa nella zona Miralbello sono due problemi importanti che chiaramente con solo i soldi e fondi di bilancio comunale sarebbe stato quasi impossibile dare una risposta concreta invece con questi fondi ulteriori riusciremo a dare una risposta definitiva a queste problematiche qui abbiamo avuto anche 50.000 euro le immagini si riferiscono a quello per alcune sistemazioni e regimazioni delle acque superficiali della strada SC3 numero di San Cristoforo dalla regione Marche per un evento calamitoso occorso nel 2017 se non sbaglio anche qui fare sempre le domande fare le schede progettuali inviarle a tutti gli enti possibili è fondamentale perché se no i soldi non ti arrivano anche le procedure burocratiche sono lunghe sono complesse però alla fine i risultati si conseguono solo in questa maniera tra poco parliamo di asfalti ma prima le leggo un messaggio per quanto riguarda il sentiero fluviale e spazi verdi abbandonati che progetti ci sono per aree picnico o anche zone naturalistiche allora il sentiero il sentiero verde che è la Greenway la questione è venuta fuori anche in riferimento alla ciclovia del Cesano perché cosa molto molto semplice e su questo è giusto fare chiarezza e ringrazio chi mi ha fatto questa domanda perché mi consente di fare chiarezza la ciclovia del Cesano tutti i comuni avremmo voluto farla sfruttando questi percorsi stupendi bellissimi che ci sono nel territorio non ci sono solo a San Lorenzo ma ci sono in qualche tratto sul comune di Mondavio ma soprattutto penso Corinaldo penso Monteporsi o penso a Trecastelli lo stesso parte terminale di Mondolfo purtroppo questi percorsi non sono sfruttabili per la ciclovia perché bisogna anche qui sottostare delle norme che sono quelle dell'ex disegno civile quindi nelle aree esondabili nelle aree dove può accadere un rischio idraulico idrogeologico nelle aree quindi troppo vicine all'albo fluviale purtroppo non sono sfruttabili per questo tipo di percorsi chiaramente si fa della manutenzione che è quella ordinaria in alcuni tratti laddove è possibile laddove le risorse lo consentono laddove le tempistiche lo consentono ma chiaramente invece il progetto della ciclovia è lì che abbiamo degli spazi in sicurezza degli spazi anche per aree sosta picnic che possono essere realizzate e le abbiamo inserite in questo progetto perché chiaramente deve sottostare come è giusto che sia a una serie di norme perché avevamo proposto all'inizio proprio il percorso dell'Inglin Way per la ciclovia del Cesano perché ci appare sicuramente quello più bello quello più suggestivo però le norme non ci consentono di fare il percorso oltretutto non abbiamo la titolarità giuridica di quel percorso perché per investire un soldo pubblico bisogna avere o la piena proprietà o un diretto comunque di possesso e su quell'area che è demaniale o in parte addirittura privata questo purtroppo non c'è oggi bisogna rincorrere magari quelle cose che non sono state diciamo puntualmente sistemate quando era il tempo avete investito tanto anche sulla viabilità sulla sicurezza stradale sì abbiamo fatto diversi interventi uno degli ultimi riguarda via Enrico Mattei chiaramente sono un intervento a 45 mila euro abbiamo rifatto tutto l'incrocio stradale una parte dell'asfaltatura messo in sicurezza quindi un percorso anche pedonale in sicurezza per i pedoni che da quel punto poi che è il punto dove avverrà l'installazione delle fermate del trasporto pubblico locale per arrivare in sicurezza alla zona dell'hotel Giardino quindi via Mattei via Fermi via Giovanni XXIII per collegarsi poi alla ciclovia quella che dicevamo prima di via Bagnara che mette in collegamento sicuro e piacevole perché poi è il luogo già oggi di passeggiate di persone che vanno sia in bici che a piedi quindi tutto un percorso studiato che c'è dietro su questa rete di percorsi ci saranno degli interventi anche su altre strade chiaramente il ponte di via Mazzalaio abbiamo già stanziato le somme partirà nel giro di un mese un mese e mezzo doveva partire anche quel lavoro per una ristrutturazione di quella porzione e regimazione delle acque meteoriche su quella porzione di strada e abbiamo già fatto tutta una serie di progettazioni preliminari su altri tratti di strade exurbane che abbisognano assolutamente di un intervento si parla sempre per la primavera o prossimo ormai autunno questo sicuramente questa diciamo questa annualità la vedo complessa probabilmente riusciremo invece per la primavera del 2022 a fare una serie di altri interventi molto cospicui stiamo lavorando per questo perché comunque ci sono le strade exurbane che necessitano penso alla via Caprile penso alla stessa via Bagnara in molti tratti ci sono strade nella zona di Miralbello ce ne sono altre a Sansevero altre a San Vito lo stesso San Vito su Cesano abbiamo investito nel primo mandato ho fatto un report quindi mi ricordo molto bene circa 700.000 euro in viabilità che non sono sicuramente pochi quindi dobbiamo continuare su questa strada per dare delle risposte a tutte le zone chiaramente sono stati fatti interventi anche su via la strada del Brotano su tante altre su tante altre strade quelli che vedevamo prima 50.000 della regione Marche per la strada San Cristoforo gli interventi sono tanti chiaramente le esigenze anche sono tante il territorio non è piccolissimo è vasto ma si cerca di dare una risposta e parallelamente ci sono anche strade alcune strade fortunatamente non molte del centro abitato che vanno su cui stiamo progettando degli interventi per avere almeno intanto la quantificazione economica della spesa che ne faccio un esempio una può essere via Gramsci e il parcheggio adecente via Gramsci che sicuramente hanno fatto il loro tempo una parte della parte interna di via Zara quella della lottizzazione interna ecco sono queste un po' le vie che sono nelle priorità principali della nostra amministrazione nel prossimo piano asfalti rimaniamo in strada sindaco ma parliamo di mezzi perché state rinnovando insomma questo parco auto eh sì c'era bisogno anche di quello abbiamo investito molte risorse sia nel primo mandato che le stiamo investendo in questo secondo mandato e su questo anche qui vediamo il nostro operaio è l'assessore Giuliano Bonifazi abbiamo acquistato è uno dei mezzi che abbiamo acquistato abbiamo stanziato 60.000 euro per l'acquisto di mezzi sono un camion un camioncino due assi per l'ufficio tecnico un altro furgonato quello che vediamo per l'ufficio tecnico degli attrezzi delle attrezzature particolari per il verde una panna speciale una panna speciale per la terna che serve per fare le punette nelle strade perché cosa fondamentale comunque fare anche le punette per non rovinarle quando piove e stiamo definendo l'acquisto anche di un bobcat che è un altro mezzo che mancava totalmente in forze agli operai esterni quindi prima si è investito su altri settori con l'acquisto di uno scuola boss della macchina per la polizia la polizia locale una macchina 4x4 sempre per l'ufficio tecnico e adesso investiamo più sulla parte operai esterni era assolutamente necessario perché ogni tanto va insomma con i mezzi che non vanno più non si può lavorare chiaramente ci stanno arrivando tanti messaggi ma abbiamo poco tempo ancora a disposizione ho letto che negli ultimi anni ci scrivono c'è stato un forte aumento del gettito dal 5x1000 come è stato utilizzato nel passato e come pensate voi di utilizzare i proventi attuali allora intanto visto che siamo in ambito di 5x1000 quindi si avviciniamo al momento in cui i cittadini devono fare la propria digrazione di redditi io li ringrazio ringrazio tutti i cittadini di San Lorenzo e ringrazio coloro che quindi hanno posto la loro firma mettendo che il 5x1000 debba essere destinato ai servizi sociali del nostro comune il gettito è aumentato veramente tantissimo negli ultimi anni parliamo chiaramente in termini relativi perché in termini assoluti non parliamo di cifre enormi però vedere il numero di cittadini e di contribuenti che hanno fatto questa scelta vedere il gettito che più che raddoppiato ci ha fatto grosso piacere e il numero di cittadini è molto più che raddoppiato quasi triplicato adesso non ho sotto la statistica che mi era comunque l'ufficio ragioneria mi aveva fatto qualche tempo fa ma mi ricordo dei dati molto molto positivi una parte l'abbiamo destinata come dicevo prima nel rinnovo parco mezzi per nel rinnovo dello scolobus questa è già una parte quindi è stata spesa nel se non sbaglio era l'anno 2018 stiamo accandonando ulteriori risorse per fare sempre degli acquisti che siano stabili e duraturi nel senso che già investiamo molte risorse sul settore servizi sociali e che anche qui ringrazio il lavoro degli uffici a partire dal responsabile fino all'assistente sociale che è la dottoressa Zanchetti e Alessandra per il lavoro che stanno svolgendo insieme all'ambito di Fano l'ambito 6 quindi sarà un acquisto di un qualcosa di stabile duraturo che serve a tutta la comunità quindi stiamo cercando di accantonare delle somme anno per anno per fare questi acquisti Passiamo alla palestra polifunzionale perché è una struttura attesa e richiesta da tanto tempo anche qui per un investimento importante 900 mila euro circa un investimento di un milione e duecenti di più un milione e tre ah ecco un milione e tre un milione a fondo perduto sempre dal MIUR perché l'abbiamo legata all'edilizia scolastica sta venendo avanti sta procedendo è una cosa che ci si aspettava nel nostro comune da tempo chiaramente ha le dimensioni io dico giuste per la nostra comunità perché non dimentichiamoci mai una cosa che poi gli edifici le strutture le infrastrutture le strade in questo caso insomma una grossa struttura come questa vanno poi gestiti e manutenuti quindi bisogna sempre trovare il giusto equilibrio fra le esigenze e le dimensioni della struttura e quindi anche quello che è la struttura stessa anche qui insomma io credo che sia una bella soddisfazione per un comune e per un'amministrazione portare avanti un progetto del genere anche perché potrebbe fungere e servire per delle situazioni di emergenza ma lo vediamo in questi momenti lo vediamo in questi momenti avere oggi non abbiamo una struttura al coperto che tenga più di 150 persone penso al teatro Mario Tiberini sono 150 posti la palestra che abbiamo su cui abbiamo investito 150 mila euro anche lì con un bando regionale e istituto credito sportivo perché? perché comunque aveva circa 50 anni e aveva necessità di un adeguamento sia tecnologico che sull'involucro esterno ma non c'era uno spazio adeguato per fare alcuni tipi di attività e per avere un punto strategico anche di protezione civile nel caso penso anche al discorso vaccinazioni lo vediamo lo vediamo in questi momenti di maggiore difficoltà cosa vuol dire avere delle strutture di un certo tipo avere una struttura che con il certificato di prevenzione di incendi potrà tenere a 300 persone le dicevo prima 900 mila perché mi ricordavo di questo numero ma in realtà sono i metri quadrati giusto per far capire anche a casa anche altre persone residenti in altri comuni insomma una struttura veramente i numeri sono tanti qualche volta si fa anche confusione ma sono un milione e tre su questa struttura abbiamo anche altre fotografie che riguardano il mega impianto fotovoltaico anche qui la provincia ha accolto le vostre istanze insomma il comune di San Lorenzo in campo diciamo che non ci facciamo mancare nulla nel senso che chiusa una questione che è quella che dicevamo in apertura diciamo che ci avviamo alla conclusione con un'altra tematica problematica ambientale direi su un'area di 12 ettari un impianto da quasi 7 megawatt che sono circa 15 oltre 15 mila pannelli fotovoltaici non si ha una preclusione sulle energie rinnovabili anzi però chiaramente andare a influire su un'area così estesa in un comune dove già nei primi anni 2010 nel boom del fotovoltaico volenti o non non volenti il discorso della centrale di trasformazione energetica di energia elettrica che abbiamo sul nostro territorio sicuramente influito ma tutta un'altra serie di fattori sicuramente è stata determinante abbiamo già 31 ettari coperti da fotovoltaico solo questo sono 12 ettari circa dopo chiaramente tutta la particella poi la parte coperta è leggermente inferiore il comune di Pergola e di Arcevia sono entrati in questo screening di valutazione di impatto ambientale e hanno anche loro dato il loro apporto perché chiaramente l'impatto che si ha dal punto di vista paesaggistico e quindi ambientale e il paesaggio è uno degli elementi fondamentali fondativi su cui i territori come i nostri hanno qualcosa su cui poter contare e qualcosa da spendere in termini di turismo e di valore della qualità della vita lo stesso problema che si aveva da altre parti si deve avere qui perché se il problema era ambientale e passaggistico da altre parti lo può essere sicuramente anche su questo tema io ringrazio i sindaci di Pergola e di Arcevia per aver sposato insieme a noi questa battaglia che ora ha una prima fase una prima vittoria delle pubbliche amministrazioni che il fatto che non vada in semplice autorizzazione unica dove entrano in gioco solo fattori urbanistico edilizie di pianificazione territoriale sulle quali chiaramente i comuni hanno poca voce in capitolo ma con la valutazione l'impatto ambientale riusciremo a far valere insomma molte ragioni dei comuni su tutta un'altra serie di fattori e di considerazioni importanti che bisogna fare su impianti di questo genere chiaramente anche qui seguiamo da vicino quotidianamente le questioni perché sono questioni importanti e rilevanti Sindaco abbiamo purtroppo poco tempo però vorrei farle altre due domande quindi cerchiamo di dare se possibile delle brevi risposte le chiedono per quanto riguarda il blocco della consegna delle case popolari come pensa si possa sbloccare la situazione bella domanda in due parole cercherò veramente di essere telegrafico la questione è attualmente in mano ai massimi vertici regionali abbiamo e lo dico anche qui in diretta davanti a molte persone sicuramente che ci seguono è una cosa vergognosa che ci siano nove appartamenti finiti in via Manzoni a San Lorenzo in campo costruiti da Erap sui quali manca un documento per rilasciare l'agibilità ci sono persone famiglie che attendono ragazze e madri persone sole famiglie numerose che attendono una casa e per la mancanza di un documento non voglio l'ho già messo sulla stampa un nome qui non lo faccio ma i miei cittadini lo sanno una persona di Erap che non si prende la responsabilità di passare sopra questioni privatistiche di questioni fra Erap e Ditta che ha realizzato intervento di cui non me ne frega assolutamente nulla devono essere consegnate e io ringrazio i vertici della regione che si stanno occupando di questa questione insieme ai vertici di Erap Marche perché hanno capito l'importanza e che si tratta di una quisquiglia perché queste persone hanno diritto ad avere un'abitazione e una casa quindi su questo veramente c'è poco da dire insomma c'è poco altro da aggiungere se non che io non so altro come definire certi atteggiamenti da parte di chi non si prende certe responsabilità noi che siamo i sindaci le responsabilità ce le prendiamo e anche gli altri se le devono prendere le responsabilità è stato chiarissimo chiudiamo con un argomento ben più leggero perché alcuni suoi concittadini vorrebbero sapere se per la prossima estate verranno organizzati degli eventi delle manifestazioni perché c'è anche la necessità di ritornare alla normalità sindaco giusto corretto con responsabilità sempre con responsabilità come dico sempre la cosa fondamentale che dico intanto un primissimo appuntamento lo abbiamo domenica domenica di questa settimana l'Uro 16 al Teatro Rossini di Pesaro però l'iniziativa è totalmente all'Orentina la 29esima edizione del premio lirico internazionale Mario Tiberini gestito ideato e promosso dalla professoressa Giosetta Guerra c'è già tutto un calendario che stiamo approntando di penso a diverse cose penso al teatro all'aperto penso alla musica all'aperto penso a iniziative di tipo culturale il discorso del patrono qualche concerto il discorso del outdoor e cicloturismo sul quale Montalfoglio è un po' la capitale della Vallata del Gessano grazie ad Alessandro Montanari che tanti conosceranno il festival arte contemporanea che sarà la fine dell'estate il festival delle anime gentili presentazioni di libri stiamo mettendo insomma insieme tutto un pacchetto che in sicurezza e in condizioni idonee a quella che la situazione stiamo vivendo possa ravvivare sicuramente le serate estive scusate le serate estive dei cittadini laurentini e dei turisti che verranno a San Lorenzo in campo grazie sindaco Davide Dellonti per essere stato con noi le auguro un buon prossimo momento di serata grazie grazie anche a tutti i nostri telespettatori che ci hanno inviato veramente tantissimi messaggi mi scuso come sempre per quelli che non sono riuscita a leggere grazie anche il regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra l'informazione torna in diretta domani mattina alle 7 con il commento alla stampa del nostro direttore Marco Ferri grazie buona serata a tutti buona serata grazie a tutti